Pronti? Bella bomboletta qualsimoria è la perfetta, piena di vernice事, lui le dice vieni dai, Bumbac 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 Un graffito preparato perché un buro rovinato lo rendiamo assai vivace, colorato, tu ti piace? Bumbac 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 Ma che bel capolavoro, ciò che hai fatto vale, ora la bomboletta terminata, Bumbac Babbac, finirà differenziata. Pronti? Grazie a questo ragazzino, presto dentro il magazzino, ci sarà un oggetto di otto, un prezioso riprodotto Che sorpresa che stupore, qualche oggetto di valore, scocca l'auto diventata e suo padre La comprata 1, 2, 3, 4 Diferenza bene, bene se lo fai quando ti conviene, trasformare intelligente e va bene anche l'ambiente Una forma poi un'altra e il ciclo passa a scala, un percorso circolare Per rinascere e tornare 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 che vedete sul giornale aglio 3 è Amparapariciclo proviamo 1, 2, 3 Amparapariciclo grazie ciao